Amici, siamo in macchina solo per una ragione, dobbiamo mettere tutte le cavolatine che ho comprato. Allora ho preso questo cuscino per la testa, il colore mi sembra perfetto per i miei interni, sarà comodo, chi lo sa. Non so neanche se è legale lasciarlo, comunque sembrerebbe comodo. Poi ho preso questi perché mi dà sempre fastidio la cintura, quindi spero che siano più morbidi. Questo andrebbe qui. Vi dirò, questi sono carini. Poi ho preso questo portatelefono con i fiorellini, super carino ma secondo me non posso metterlo qui. Eh no, vedi che non ci passa, ma perché lo fanno così? C'è pure di romperlo, ho capito? Forse sono riuscita a incastrarlo, però col fatto che esce l'aria calda qua non so quanto possa andare bene, però per ora mi sembra che ci stia. Sta al momento un po' giù il telefono, vorrei che stesse tipo così, però almeno ho un appoggio per il telefono. Poi ho preso questo, che dovrebbe essere tipo un fiocchettino profumato. Chiutto questo fiocchettino, dove lo mettiamo però? E il profumo però, vediamo com'è. Non è il massimo però, dai, non è anche malvagio, salì i fiori. E attacchiamolo. Però si vede la parte nera, scusate. Chiutto. Allora lo provo a mettere qui. Questo è carinissimo, quanto è chiutto questo fiocchetto. Poi avevo preso in realtà anche questo, tipo qua, ma eviterò.